In considerazione delle carte che io ho potuto leggere, quelle che ho letto, diciamo così, dei giornali, mi sembra esagerata una richiesta, cioè significa chiedere al Teramo di scomparire dal calcio perché la Serie D, 20 punti di penalizzazione, nessuno si iscriverà mai a nessun campionato. Mi sembra davvero esagerato, se poi guardiamo il Catania, dove agli atti risulta che insomma abbia comunque commesso un illecito sportivo, come dire, anche confessato dal Presidente stesso, la pena è notevolmente diversa. Insomma, mi sembra davvero che c'è qualcosa che, come dire, non torna da questo punto di vista. Però questa è la proposta, diciamo, quello che chiede la Procura. Adesso la cosa importante è quello che decide il giudice. Insomma, io però ecco fare cauto perché c'è ancora la prima sentenza, poi c'è il secondo grado, c'è l'appello. Insomma, questa città non può e non deve perdere la Serie B perché è importante, c'è un territorio dietro, dietro una squadra c'è un territorio, c'è una città, c'è i tifosi, insomma c'è tutto un sistema, un meccanismo. Allora, un provvedimento così grave lo si può prendere soltanto se effettivamente ci sono delle reali prove, altrimenti davvero si rischia di penalizzare un territorio per i prossimi anni. Sindaco, i tifosi sono giustamente preoccupati, ma al di là di questo il Presidente Campitelli ha detto proprio nelle ultime ore, io con il calcio chiuso. Ma adesso il Presidente è un po' amareggiato perché non si aspettava questa richiesta da parte del Pubblico Ministero. Però, ripeto, il Pubblico Ministero fa il suo lavoro, quindi insomma il Presidente più tardi cercherò di sentirlo. Adesso ci vuole calma e tranquillità perché il processo è appena iniziato. Quando uno è strano a questi fatti deve star tranquillo perché poi alla fine io sono convinto, e non potrebbe essere altrimenti, che la giustizia renderà merito al teramo. Non può che essere così. Grazie a tutti.